Mascherine ritirate anche all'ospedale dell'Aquila, al Consiglio regionale e ad altri enti ai quali erano state consegnate, questo dopo l'inchiesta partita dalla Procura di Gorizia sulla non conformità di alcuni lotti di mascherine di importazione cinese che non assicurerebbero un adeguato livello di protezione a chi le indossa. La protezione civile e regionale ha fatto il provvedimento scrivendo agli enti, comprese le prefetture, per capire se erano in possesso di mascherine di quei lotti che ora, dopo i controlli, hanno ritirato in varie sedi e stanno ancora ritirando, come conferma il direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile Mauro Casinghini. Noi abbiamo tempestivamente appena ricevuto la comunicazione dalla Guardia di Finanza di Gorizia che ha operato le indagini per conto della magistratura, abbiamo già dal 7 di aprile, quindi immediatamente, scritto a tutti coloro a cui abbiamo consegnato mascherine di quella tipologia per intanto bloccare la distribuzione e poi restituirle a noi perché abbiamo l'obbligo da parte della Guardia di Finanza di restituirle, di immagazzinarle noi. Ad oggi, fra le scorte che avevamo noi ancora e che non avevamo ovviamente distribuito e quelle che già ci sono state riconsegnate, siamo a poco meno di 900.000 pezzi, quindi voglio dire un numero cospicuo. Il caso, che è esploso da tempo a livello nazionale, ha attivato anche diversi sindacati come il Narsin e il ritiro nel presidio ospedaliero cittadino, molto attento a regole e sicurezze, è avvenuto in tempi rapidi. È scattato così il ritiro con la riconsegna delle mascherine afferenti ai lotti incriminati. L'operazione è ancora in corso, non è semplice, ma la protezione civile ha inoltrato anche una documentazione fotografica fornita dalla Guardia di Finanza per accelerare tutte le operazioni. Non è facile ovviamente perché queste mascherine sono state distribuite in gran numero, parlo delle mascherine in generale, non questa tipologia soggetta al sequestro. Quindi andare a identificarle quale delle mascherine è oggetto del sequestro e quale no, non è cosa facile nemmeno per coloro a cui sono state consegnate. Noi abbiamo fornito anche una documentazione fotografica per facilitare il riconoscimento in maniera tale che le strutture che le hanno in deposito intanto hanno immediatamente bloccato la distribuzione all'utilizzatore finale e poi ovviamente per immagazzinarle e restituirle.